ciao a tutti benvenuti ad un nuovo tutorial oggi vi presento un'altra delle mie palette che si chiama controllo easy ease e serve a controllare la quantità di smorzamento dell'easy ease bene prima di cominciare con un esempio vi ricordo che la palette la potete scaricare dal link che trovate sotto il video e una volta che l'avete scaricata eccola qui dovete inserirla dentro la cartella script uipanels che sta dentro la cartella scripts di after effects bene torniamo in after effects e adesso facciamo un esempio la composizione l'ho già creata al suo interno già inserito un disegno questa piccola auto adesso facciamo un'animazione sulla posizione quindi clicco il tasto p evidenzio la position voglio che al tempo zero l'automobile si trovi tutta a sinistra quindi la sposto qui vicino al margine sinistro accendo l'orologio per aggiungere il primo keyframe poi prendo il cursore avanzo di due secondi nella timeline e sposto la macchina tutta a destra nella composizione bene adesso seleziono il keyframe finale e con la scorciatoia da tastiera f9 ammorbidisco il keyframe per cui se faccio una preview cosa vedo che l'automobile prima di fermarsi rallenta quindi l'animazione su quel keyframe viene ammorbidita bene però la quantità di smorzamento che al momento ha l'automobile non è stata assegnata da noi ma automaticamente da after effects e adesso noi modificheremo la quantità di smorzamento usando appunto la mia palette controllo is is e per farlo facciamo così selezioniamo il keyframe e assegniamo un nuovo valore alla quantità di smorzamento agendo su questo cursore che oscilla tra 0 e 100 quindi un minimo di 0 un massimo di 100 oppure scrivendo direttamente il valore qua in questa casella a destra del cursore ora il valore che after effects assegna automaticamente al keyframe nel momento in cui viene attivato l'is is è 33 per cui se noi usando questa palette diamo un valore superiore a 33 rendiamo lo smorzamento più intenso quindi di nuovo riseleziono il keyframe e do un valore per esempio di 78 e vedo qual è il risultato vedete che l'automobile quando si ferma ha un rallentamento più intenso di quello che aveva prima proviamo a dare il valore massimo possibile che 100 quindi sposto il cursore fino in fondo il valore 100 faccio la preview vedete che adesso il rallentamento finale è ancora più intenso di prima se adesso io rimetto il valore a 33 e questa volta il valore lo assegno scrivendo proprio manualmente il valore nella casella qui a destra e faccio di nuovo la preview abbiamo lo stesso smorzamento che avevamo all'inizio quando era appena stato assegnato l'is is se invece questo valore lo diminuisco ho uno smorzamento inferiore di quello che aveva assegnato after effects ecco e se metto il valore dell'is is a 0 praticamente annullo l'is is e come vedete il keyframe è tornato normale lineare quindi in modo molto rapido ed efficace è possibile cambiare la quantità di smorzamento usando questa palette assegnando il valore che si vuole massimo di 100 e minimo 0 che praticamente fa tornare il keyframe normale senza alcuno smorzamento attualmente io potrei modificare la quantità di smorzamento anche senza l'ausilio di questa palette il modo comunemente usato è questo cioè prima si attiva l'is is quindi seleziono keyframe f9 poi si apre il grafico dell'animazione cliccando su questo pulsante qui a sinistra graph editor a quel punto compare il grafico della velocità e per modificare la quantità di smorzamento dobbiamo agire su questa maniglia gialla cliccando e trascinando verso sinistra o verso destra se io trascino verso sinistra in questo caso su questo keyframe praticamente aumento la quantità di smorzamento se la trascino al massimo a sinistra è come assegnarli un valore di 100 con la mia palette proviamo a vedere se è vero faccio partire la preview e infatti vedete che ha quello stesso smorzamento che avevo ottenuto assegnando il valore 100 con la mia palette e se sposto invece questa maniglia verso destra vedete che la curva diventa più pendente e quindi lo smorzamento diminuisce ok questo è il metodo ufficiale per cambiare la quantità di smorzamento però come potete vedere è un po' più lungo e macchinoso perché devo aprire il grafico agire manualmente sulla curva adesso io la richiudo bene ci sono anche due controlli easy out e easy in e questi due controlli possono tornare utili nel caso in cui lavoriamo su un keyframe intermedio e per capire meglio questa cosa aggiungo un terzo keyframe a questa animazione quindi prendo il cursore vado più avanti ancora nella timeline facciamo 4 secondi e sposto l'automobile di nuovo indietro a sinistra qua e faccio di nuovo tornare questo keyframe lineare quindi metto a 0 con la mia palette e il keyframe torna lineare ora concentriamoci sul keyframe al centro quello intermedio appunto se lo seleziono e agisco sul cursore easy in praticamente io modifico lo smorzamento soltanto in ingresso da questa parte ma non modifico lo smorzamento in uscita se voglio modificare lo smorzamento anche in uscita devo modificare l'easy out per cui potrei avere due tipi di smorzamento diversi per esempio easy in lo lascio a 100% quindi molto lento a entrare ma quando riparte magari voglio farlo partire più velocemente quindi in easy out abbasso il valore a 24 per esempio quindi noi avremo la macchina che arriva con un forte rallentamento poi partirà con un'accelerazione maggiore proviamo a vedere quindi molto lenta ad arrivare ma non così lenta a ripartire facciamo una variazione questa volta voglio che in ingresso arrivi non così lentamente quindi abbasso l'easy in ok e invece l'easy out lo porto al massimo cosa succederà? arriverà non rallentando molto ma quando ripartirà accelererà molto lentamente vediamo se è vero ok arriva senza decelerare tanto ma quando poi riparte accelera molto lentamente quindi l'easy out e l'easy in servono soltanto per controllare keyframe intermedi l'easy is che cosa fa allora? praticamente assegna lo stesso valore sia in ingresso sia in uscita ma per keyframe iniziali e finali di un'animazione basta controllare l'easy is generale non serve specificare l'out o l'in bene capito come funziona questa palette naturalmente noi possiamo modificare il comportamento di keyframe di qualsiasi tipo d'animazione in questo caso l'ho fatto sulla posizione proviamo a farlo anche sulla scala e la rotazione magari con un altro disegno quindi seleziono il disegno lo butto aggiungo un disegno diverso e adesso voglio lavorare sulla scala quindi clicco il tasto S rimpicciolisco il disegno voglio che al tempo zero la scatola sia piccola così accendo l'orologio della scala e dopo un secondo circa la scatola sia più grande ok adesso seleziono il keyframe finale e gli do un valore massimo ancora 100% a questo punto se faccio la preview vedrò che avrò un forte rallentamento della scala sul secondo keyframe vediamo parte molto veloce ma quando arriva al secondo keyframe rallenta tantissimo benissimo e per completare proviamo anche a farne uno sulla rotazione elimino questo disegno ne aggiungo un terzo sistemo l'anchor point che non è proprio al centro del disegno e ora metto in evidenza la rotazione cliccando il tasto R voglio che al tempo zero la rotazione sia a zero gradi e dopo un secondo faccio fare un giro completo do il valore 1 ai giri anche qui al keyframe finale questa volta diamo un valore di facciamo 80 quindi questa volta lo scrivo direttamente nella casella di destra tasto invio per assegnarlo e facciamo una preview e abbiamo questo tipo di smorzamento oppure si può fare in modo che entrambi i keyframe sia il primo sia il secondo abbiano lo stesso tipo di smorzamento allora li seleziono tutte e due e gli assegno un valore di facciamo 50 tutte e due facciamo una preview oppure lo modifico in tempo reale e gli assegno il valore massimo vediamo cosa succede parte molto lentamente recupera velocissimamente nella zona intermedia poi rallenta tantissimo alla fine benissimo quindi direi che per oggi possiamo fermarci qua spero proprio che questa palette possa tornare utile ai vostri progetti e ci vediamo alla prossima ciao ciao